infinito scroll ipnosi distrazione senza fine esistono luoghi dove gli esseri umani non nascono vengono coltivati cosa succede quando ho questa scatola digitale in mano a questo oggetto magico sexy e seducente che mi cattura e a volte non riesco a smettere ho la vaga sensazione che quando mi trovo in rede e non mi venga chiesto denaro per un servizio o per un prodotto il prodotto sia io stesso il mio avatar olografico viene creato ad ogni mio click cosa mi succede durante lo scroll durante l'atto di scorrimento sui dispositivi digitali ormai divenuto un gesto di ipnosi sociale avviene la sparizione dell'essere l'illusione di appartenenza e l'annientamento personale in favore di un allontanamento da se stessi e dagli altri essendo consapevoli di tutto ciò è importante usare tutta la meraviglia di questa nuova dimensione digitale come mezzo di creazione per poter arricchire la creazione della nostra sfera energetica quindi passare dall'essere rittima e gestiti da un sistema algoritmico al gestire la propria dimensione in maniera indipendente per poter arricchire la propria dimensione in maniera indipendente per poter arricchire la propria dimensione in maniera indipendente